Io non vedo l'ora di cominciare, parleremo di Schifano, Gonzaga, un'incisione vecchissima di... Insomma, siamo a un livello talmente alto. La rasatura è una tecnica che viene usata da pochi maestri, perché è molto difficile, ovviamente. Abbiamo appena iniziato, abbiamo 200 opere, non cominciare a stressare i clienti, per favore, stai buono. Bene, brava. Quindi, mi ha fatto perdere il filo la Paola. Con una forbice inghisa, molto pesante, quindi per questo è pericolosa, perché basta una leggera pressione in più che potresti danneggiare tramordito il tappeto e da buttare. Siete comodi sul vostro rivano, oppoltre ci aspetta, non mi riguardo tutti, poi chiamo. No, vuol dire che se tu cerchi di spostare il vello, non riesci. Bene, tappeti con vello molto alto, nodo molto grosso, cioè tappeti grossolani, quelli che vedi in tutte le televendite, anche quelli che ho fatto io, eh, fino a ieri l'alto. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ma se chiami... Ecco, 1100 euro. Come faccio ora ad andare avanti? Stock market dice, andiamo avanti Orlando, come andiamo avanti? Che per annodare a mano questo tappeto ci sono volute nove volte di tempo in più rispetto a tutti i tappeti che avete visto nella vostra vita. Che ti ho detto a inizio la trasmissione? Basta che quando chiami dici vengo a vederla da voi. Ok, basta spiegarle così le cose. La Paola è dura come donna, non ha, capito? È rigida, come dire, non è morbida. 340 euro, Atos Facincani, cioè ti apri una finestra su Portofino tutta la vita, no? Cioè, mi pazienta, Doha, mi passi nuovamente il Gonzaga un secondo. Cioè non ho detto, va un po' più là, ma un Gonzaga così, dritto, sta dritto. Sì, alza un po' inizio. Te l'appendo a parete e tu mi dai 340, ecco, non ti ricordi, è tipico. Aiutatemi. Quindi? Ne? Io ho sempre amato le persone che parlano poco. Sarà per il mestiere che faccio. Perché quelli che parlano poco hanno tante cose da dire. Ho appena presentato un quadro degli anni 90, 50-70, 20.000 euro. Ho presentato poc'anzi, 80-80, anni 90, 24.000, ok? Signore e signori, 21.000 euro. 21.000. Sì. Ma magari c'è qualcuno tra... Ecco... Questo è Mario Schifano, un artista vero. Un artista sincero che prendeva le porte in faccia dai galleristi quando arrivava lui, spettinato, e diceva... E diceva, questi sono i miei quadri. Dice, chi sei te? Vai via, vai, vai, da dove vienete? Di che paese sei? Via, via. Sapete chi gestisce l'opera di Andy Warhol? A New York c'è un grattacielo enorme, tutto di cristallo. Certo. E la fondazione... Ma te la prendo il numero 26. Grazie. I mercanti fanno così...